La nuova Kuga è la Ford più elettrificata di sempre. Scopriamola insieme. Plug-in Hybrid, EcoBlue Hybrid e Full Hybrid. Tre tipologie diverse di ibrido, affiancate dai motori diesel e benzina più tecnologici ed efficienti. La massima scelta per la massima versatilità. La versione Plug-in Hybrid è dotata di un motore elettrico e di uno speciale motore a benzina. Insieme erogano una potenza di 225 cavalli, con consumi di solo 1,2 litri per 100 chilometri. Inoltre, la nuova Kuga può percorrere oltre 50 chilometri in modalità completamente elettrica, con zero emissioni. E nuova Kuga Plug-in Hybrid si ricarica come vuoi e quando vuoi. Puoi scegliere se ricaricarla a casa attraverso una comune presa elettrica o con una wallbox, oppure nelle sempre più numerose stazioni di ricarica pubbliche. Ma si ricarica anche da sola durante la guida, recuperando l'energia delle frenate. E anche partendo con la batteria scarica, ha tutta l'efficienza e i vantaggi di un motore ibrido. E ovunque tu sia, puoi controllare e gestire la ricarica con il tuo smartphone. Vista dall'esterno, la nuova Ford Kuga presenta una silhouette slanciata e dinamica. Un design contemporaneo, completamente rinnovato. Anche all'interno tante innovazioni. Maggiore spazio sia per i passeggeri che per i bagagli. L'abitacolo è stato progettato per garantire il massimo comfort, grazie anche ai sedili posteriori scorrevoli. Nuova Kuga non è solo elettrificazione e mobilità del futuro. Sono disponibili infatti le più avanzate tecnologie di assistenza alla guida. La telecamera posteriore si accorge di eventuali veicoli in arrivo avvisandoti, mentre i retrovisori tengono sotto controllo l'angolo cieco segnalandoti i pericoli. Il nuovo sistema di mantenimento della corsia può riconoscere il bordo della strada anche in assenza delle strisce e il monitoraggio della stanchezza mantiene il guidatore sempre concentrato sulla strada. In più, il sistema di frenata automatica rileva un pericolo di collisione con un veicolo, un pedone o un ciclista. La tecnologia è protagonista di ogni viaggio, anche con l'hotspot wifi di bordo e tutta la connettività del sistema Sync3. Inoltre, il nuovo cruscotto a colori è completamente digitale e personalizzabile, per avere sempre sotto controllo le informazioni preferite, come la carica della batteria e la modalità di guida selezionata. Scopri nuova Ford Kuga, ibrido ed elettrico, in una sola auto.